Ancora la pioggia su questa terra già ferita e martoriata da due alluvioni in meno di due mesi. Vedete alle mie spalle il parco archeologico di Metaponto, è un'immagine davvero emblematica di questa situazione, di come l'incuria dell'uomo e la furia della natura possano minacciare le vite umane, intaccare gli affetti, le attività, le abitazioni, ma anche la storia. Qui sotto, sepolto da un metro e ottanta d'acqua, c'è anche la storia. Questo è un parco che risale al VII secolo a.C., ci sono reperti, c'è un tempio. Le colonne d'oriche che vedete lì in fondo sono quelle del Tempio di Era, completamente sommerso il Tempio di Apollo Licio. Dunque anche questo ha fatto l'alluvione in Basilicata, lo aveva già fatto meno di due mesi fa ed era già accaduto nel 2011. È la quarta volta che accade dal 2008. La situazione, dicevamo, resta ancora critica. Oggi ancora scuole chiuse in una decina di comuni. Sotto osservazione ancora i fiumi, il Bradano e il Basento. Il Bradano è un metro sopra il livello di guardia. Anche se l'acqua sta defluendo lentamente verso il mare, sono cominciate le operazioni di scarico nelle dighe, in particolare dalla diga di San Giuliano, che si trova proprio sul fiume Bradano. Sotto osservazione è anche il fiume Basento, dove in alcuni punti l'acqua ha superato di 5 metri il livello di guardia. Molte case e attività sono state sgomberate per precauzione. Il numero degli sfollati continua ad aumentare. Sono circa 300 e tutto questo, mentre anche la viabilità comporta in questo momento dei disagi. La statale 106 Ionica è ancora interrotta all'altezza di Metaponto. Si torna alla normalità, invece, lentamente sulla strada statale Basentana, che è l'arteria principale che attraversa la Basilicata. Critica la situazione anche nell'area nord della regione, dove continua a piovere. Si registrano frane e smottamenti. Ancora interrotto il traffico ferroviario sulla linea Potenza-Foggia. Dunque, ancora ore di allerta. Continua il monitoraggio da parte dei volontari della protezione civile. Questa è una zona, il Metapontino in particolare, la fascia ionica Lucana, vive di agricoltura. Vi abbiamo mostrato i campi allagati. Dunque, le aziende agricole, che ancora una volta dovranno rimettersi in piedi, ma ci sono anche gli operatori turistici, le spiagge del Metapontino. La Basilicata, nel 2012, ha fatto registrare 1.800.000 presenze turistiche, 1.100.000 soltanto qui nel Metapontino. Dunque, tanti turisti. Questa mattina abbiamo raccolto anche le testimonianze degli operatori turistici che possiedono i lidi sulla spiaggia, che sono stati devastati da questa due giorni di pioggia e di forte vento e dalle mareggiate. Ascoltiamo la loro testimonianza. Ormai, abbiamo già fatto in altre volte, siamo ormai quasi abituati a questi tipi di eventi, anche se questa volta è stato ancora più forte delle altre, ma dobbiamo comunque ringraziare l'amico maestrale che si è calmato il vento, che questa volta è veramente il vero amico, che si è calmato, che ha fatto calmare, per cui ha fatto defluire l'acqua. Però adesso non è questo. Adesso abbiamo dei danni psicologici che effettivamente sono quelli che ci segnano, quelli che ci portiamo dentro, perché sono da anni che questo problema, ne discutiamo, facciamo, abbiamo fatto delle battaglie civili, siamo arrivati sui campanili, ma tutt'oggi quello che vediamo è sotto gli occhi di tutti. Diciamo che questo territorio comunque è flagellato da due situazioni. Uno da quello istituzionale che per anni e per incuria ha gestito questo territorio e anche la natura fa il suo lavoro. Quindi due situazioni messe insieme che diventano poi esplosivi e sono sotto gli occhi di tutti. Siete abituati a questo tipo di danni? Avete avuto delle risposte fino ad ora? Di essere abituati ormai ci siamo, però le risposte sono state sempre negative. Noi ci attendiamo le risposte che abbiamo voluto da sempre, quello di mettere queste benedette barriere frangiflutte, che è la salvezza. L'abbiamo visto in alcuni punti dove sono stati posizionati. Hanno fatto sì, hanno salvato delle aziende, hanno salvato delle imprese che danno lavoro. e quindi secondo me se questo fosse stato già fatto, oggi forse la conta dei danni era di meno.